Ha fatto bene ogni cosa. Guardando la tua vita, la vita della tua famiglia, la vita delle persone che sono accanto a te, tu puoi dire oggi che Dio ha fatto bene ogni cosa, perché nel Vangelo appare il nostro Signore Gesù Cristo che in pieno territorio della Decapoli, cioè in pieno territorio pagano, incontra un sordo muto. L'immagine dei pagani, di coloro i quali hanno l'orecchio chiuso perché il demonio li ha ingannati e sedotti e li ha chiuso l'orecchio. Alla verità, esattamente come ha fatto con Adamo ed Eva, seducendoli con una menzogna. Ha chiuso il loro orecchio alla parola creatrice, alla parola con la quale Dio ha fatto tutto bene, soprattutto ha visto che era molto buono, era molto bello l'uomo fatto, creato a immagine e somiglianza sua. Ebbene, un pagano, e forse siamo tu ed io oggi, ha l'orecchio chiuso, ha la parola capace di fare bella la sua vita, di fare bene ogni cosa nella sua vita. E ha chiuso la possibilità di accogliere dentro di sé la fede, perché la fede viene dall'ascolto della predicazione. E la fede apre gli occhi per vedere e contemplare nella propria vita, nella propria storia, come nella storia del mondo, come nella storia di ogni persona, l'opera buona e bella di Dio, nonostante i peccati degli uomini, nonostante il male impregni il mondo, perché la fede ci fa guardare oltre. Gli occhi della fede, dischiusi sulla storia, sanno rintracciare in ogni evento, in ogni persona, il dito di Dio all'opera per la nostra salvezza, per il nostro bene. Sanno vedere nella croce ciò che vi è oltre la croce, la vita eterna verso la quale la croce apre la strada, per accompagnarci nel cammino della conversione, dell'umiltà che purifica il nostro cuore, purifica il nostro sguardo dalla superbia. Gli occhi della fede sono gli occhi di nostro Signore Gesù Cristo dalla croce, che vede ogni persona salvata, redenta nel suo sangue. La possibilità che ogni persona, anche la più corrotta, bagnata, irrorata, redenta dal sangue dell'agnello, può cambiare radicalmente. Ogni persona può convertirsi, perché finché noi siamo convinti dal demonio di essere noi stessi come Dio, capaci di creare la nostra vita, controllare e creare le situazioni, non saremo capaci di vedere nella nostra vita il bello e il buono che Dio vi opera. E così non saremo capaci di predicarlo, di annunciarlo, di benedire il Signore per il suo amore. Coraggio allora, fratelli, perché nella Chiesa noi possiamo ascoltare effatà, apriti la parola di Dio, capace di distruggere la durezza del nostro cuore. Nella Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso le dita di nostro Signore Gesù Cristo, cioè le dita creatrici di Dio penetrano le nostre orecchie, aprono un varco alla sua parola, perché la sua parola, attraverso la sua saliva, impastata con la nostra carne, con la nostra debolezza, possa risuscitare in noi la capacità di ascoltare. Grazie. 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 Grazie.